ok ora andiamo su una cosa un po' più evoluta ancora di fotopea che è quello di provare con le sue risorse di intelligenza artificiale a rimuovere completamente un elemento fondamentale dell'immagine e lasciare ad esempio solo il cavallo per fare ciò facciamo alt fregge aspetta ok ci avviciniamo un attimo per vederlo un attimino meglio e poi dobbiamo dobbiamo sostanzialmente degli e usare pesantemente questa funzione è usare la spot healing brush tool vedete che c'è l'asterisco che vuol dire che è fatto con la ai e questo ci permette di togliere delle di rimuovere praticamente delle parti dell'immagine quindi ampliamo un attimo il pennello perché altrimenti vediamo vecchi e proviamo a togliere la testa qui dobbiamo prima di tutto selezionare un layer ok fatto e adesso facciamo praticamente vogliamo togliere praticamente tutto questo sarebbe praticamente la donna si può fare più passaggi adesso provo a vedere se riusciamo a toglierla in un solo passaggio quindi cerco di evidenziare tutta e poi vedo cosa succede ci piega il suo tempo ci può piegare anche un pochino dipende dalla grandezza ecco vedete che l'ha tolta quasi tutta e noi abbiamo praticamente qua il togliamo ancora il velo che è rimasto togliamo questo pezzettino ok ecco quello che è successo è che in realtà ha fatto un po' un mezzo disastro nel senso che qui ha tolto sì ma cercato di ricostruire delle cose che sono danine e quindi se cerchiamo di continuare a togliere in realtà sì si toglie in altri in altri casi si limita a non fare niente però in questo caso ce la fa perché la zampa nella prova che ho fatto prima la zampa la ricostruiva anche adesso ecco però voi potete praticamente toglierla ok cercare praticamente di ricostruire un pochino un ambiente senza la donna quindi l'abbiamo tolta completamente togliamo ancora questo pezzo qua che è rimasto ok allora qui c'è un difetto enorme che vedrete che risolveremo poi dopo ci sono diverse tecniche ma soprattutto ecco possiamo provare a togliere questo pezzo qua ecco soprattutto quello che manca è la testa del cavallo quindi per mettere la testa del cavallo occorre fare magic replace questa è proprio intelligenza artificiale facciamo magic replace poi cerchiamo di mettere dove dovrebbe essere la testa del cavallo e qua gli diciamo horse head e vediamo che cosa succede facendo replace lui cerca di ricostruire una testa di cavallo qui è sempre un po complicato dire che cosa succede perché lui vede la foto nella sua interezza però vedete che la testa del cavallo è stata ricostruita tra l'altro in questo caso ha ricostruito anche un pezzo che ha pensato che fosse l'orecchio del cavallo e quindi ha fatto una bella testa quindi qua praticamente siamo a posto e solo che questa parte qua è tutta un po rovinata no quindi cominciamo a selezionarla e diciamo conserviamo horse head tanto horse head ce l'ha quindi non cercherà di riprodurla facciamo replace vediamo un po' se ce l'ha in teoria dovrebbe rifare la strada ah no l'ha cercato di fare effettivamente la cosa quindi facciamo ctrl z oppure proviamo di nuovo con replace vediamo se ce la genera di nuovo tendenzialmente non la horse ecco horse head ha cercato di mettere questo ma questo potrebbe anche andar bene diciamo e possiamo immaginare che sia quella oppure possiamo anche ricostruire ma qui mettiamo una strada quindi invece di horse head che ci aveva dato il risultato mettiamo la street old stone street ok quindi una strada vecchia di con le pietre abbiamo il processing questa operazione funziona meglio se abbiamo pagato l'abbonamento altrimenti dobbiamo vedere la pubblicità però vedete che siamo riusciti a ricostruire anzi lui ci ha ricostruito abbastanza bene questa parte e qui però c'è un difetto quindi selezioniamo di nuovo questo diciamo ancora che il anzi conviene praticamente fare proprio la testa di cavallo così si confonde di meno anzi facciamo tutto insieme in modo tale che lui riesca a ricostruirla un pochino bene e qua facciamo sempre horse head facciamo sempre il nostro replace e vediamo se ci ricostruisce anche questo pezzo che prima era stato ok ci ha cambiato leggermente la testa di cavallo la testa di cavallo l'ha fatta ancora più grossa possiamo tentare di fare un replace ancora per vedere se ok questa è venuta decisamente meglio come vedete ci ha corretto questa parete ci ha corretto tutto il resto abbiamo corretto la strada la strada attualmente se vogliamo correggere ulteriormente la selezioniamo questa perché vedete che si vede più o meno che è stata taroccata quindi andiamo qua e qui gli diciamo ancora old stone street di nuovo cerchiamo praticamente delle parole che lo aiutano e vediamo che lui agisce soltanto nell'area in cui gli diciamo e vediamo se ce la corregge ulteriormente ok la corretta effettivamente e quindi a questo punto togliendo la selezione abbiamo un'immagine in cui magari la testa del cavallo è un pochino troppo grosso potremmo se potremmo riselezionare e dirgli di farla un pochino più piccola ma comunque potrebbe essere anche un effetto prospettico e comunque la cosa importante è che abbiate capito il meccanismo quindi usando praticamente lo spot healing brush tool per cancellare qualcosa che non ci piace e il magic replace per ricostruire invece degli elementi dell'immagine e questo è tutto, grazie, buona serata